Allora, scome questa è la prima volta che che li portiamo in paricrama cioè vengono ogni giorno da loro portati così con i devoti il posto si chiama Sundaravana dice però oggi è ancora più Sundara che vuol dire meraviglioso per chi non sapesse perché sono venuti hanno guardato in ogni angolo insieme ai devoti che cantavano le cresce adesso possiamo cambiare il mantra now we can say Satyam Shivam Sundaravan possiamo cantare Satyam Shivam Sundaravan until now it's Sundaram now we can say Sundaravan era Sundaram ora cantiamo Sundaram this is Satyam Shivam Sundaravan and what is the exact meaning? Satyam means the supreme truth Shivan means the supreme auspiciousness and Sundaram means the supreme beauty and Sundaravan means the supremely beautiful forest Allora, questo mantra significa suprema verità suprema auspicio buon auspici I'm just joking sto scherzando so con it I have a very beautiful little Gaia Mandir Gaia Mandir Gaia Mandir means in the greenery Gaia Mandir significa c'è nel verde non grandi costruzioni Govardhana non ci sono costruzioni it is Govardhana, it is a mountain caves waterfalls ci sono le grotte, ci sono le cascate and many Nilgai, many antelopes and peacocks many? Nilgai, antelopes ah, molte antelope e pavoni that is Govardhana questo è Govardhana and Radha Krishna and the Gopas and Gopas play Radha Krishna and Gopas and Gopis play Radha Krishna con le Gopi insieme alle Gopi giocano una volta le Gopi stavano incoronando Radha Rani, regina di Vrindana e arrivarono i Gopas e dissero questo non è giusto non potete incoronare la regina di Vrindana perché Krishna è il re di Vrindana e lui deve essere incoronato e le Gopi dissero fate silenzio lei è la nostra Supreme e noi la incoroneremo sia che vi piaccia o no allora i Gopi si arrabbiarono non accettate Krishna questo è male, molto male e così fecero una presa di giro e i Gopas cercarono di creare dei disturbi e poi all'improvviso le Gopi tirarono fuori alcuni bastoni e i Gopas erano molto sorpresi cosa succederà con questi bastoni e prima che se ne rendessero conto venivano picchiati con questi bastoni Radha Rani è la Suprema Radha Rani è la Suprema e non voi andatevene e allora i Gopas dovessero correre e vennero picchiati molto duramente e andarono a dire a Krishna ogni cosa e dopo di questo ci fu un grande festival dell'amore che è chiamato Holi e tutti si gettano addosso i colori e lo yogurt e venne confermato Radha Rani è la regina di Vrindavana Svi Vrindavana Svadi Rade Chi Jai Jai Svi Rade Shama You see we say Jai Jai Svi Rade And in the end Shama He's getting at the end a little bit Diciamo Shama solo alla fine That is because actually the one who is chanting Jai Rade is Shama himself Perché in realtà quello che canta Jai Rade è Shama stesso He is chanting Jai Jai Rade E a tutti i devoti poi dicono Shama Perché Shama non canta il proprio nome Solo nella incarnazione segreta, nascosta Come Ghoranga E lì lui insegna al mondo come chant E diventare Bhakta E lì lui insegna al mondo come cantare e diventare Bhakta Bhakta Avatar Bhakta Avatar Bhakti Lakakashidamaj tells us of this Shila Bhakti Lakakashidamaj tells us of this dream E ci parla di questo sogno Che Krishna e Balarama sedevano sull'altare E vennero Gornitai E vennero Gornitai E gli dissero scendete dall'altare E Krishna Balarama disse no, perché dovremmo? E loro risposero perché adesso è il nostro tempo Così allora loro scesero e Gornitai si sedettero sull'altare I passatempi di Krishna sono molto diversificati Così tanti differenti aspetti Differenti aspetti dell'amore divino E se si comprende questo Se si comprende questo Allora non si sarà mai infelice Se si capisce Krishna a volte viene come Jagannath E a volte viene come Nataji Nataji era sulle montagne Nessuno sapeva dove fosse Però venne nel sogno di Madhavendra Sto soffrendo su questa montagna piena di spine Aiutami ad uscirne E Madhavendra chiese a alcuni abitanti del villaggio E venite ad aiutarmi ad aprire Insomma a fare un barco in questo bosco fitto con le spine E proprio come lui aveva sognato Trovarono Gopala nascosto sulla montagna di Govardhana E fu portato fuori e gli abitanti del villaggio fecero un bel tempio per lui Questo Gopala è chiamato anche Nataji o Natadvar In realtà Natadvar è la città dove attualmente viene adorato nel Rajasthan A volte Krishna appare come Rama E il suo intimo servitore E' una scimmia Così cosa pensate? Volete diventare la scimmia di Rama? O volete essere come Ganesh? Che può diventare il segretario di Vyasadeva? O volete servire il Signore nella sua forma di Ugra Nishinga? Molto arrabbiato E i devoti pregano Oh Krishna, oh Krishna Aiutaci Nishinga è così arrabbiato Nessuno osa parlargli Possono solo mandare Pralad Nishingadeva vede Pralad Un piccolo bambino E cambia l'atteggiamento e diventa molto dolce Questo è ciò che è Krishna Per proteggere il suo devoto può diventare molto arrabbiato E poi diventa molto dolce con il suo devoto Così ecco perché dovremmo essere molto dolci Altrimenti Nishingadeva si arrabbierà molto con voi Non è una buona idea Volete vedere Nishingadeva arrabbiato con voi? Non è buono Così dobbiamo comportarci in un modo particolare E dobbiamo arrangiare dei posti meravigliosi Una bella brindavan Sundarvan E poi dobbiamo portare tutti a Sundarvan Sundarvan non è un luogo di villeggiatura privato Bisogna portare tutti a cantare e danzare Il problema è come portarli qui Ma siete persone intelligenti Krishna vi mostrerà come fare Offrendo dei bei programmi qui Chi non vorrebbe venire a Sundarvan Per contattare Per contattare La più alta La più elevata bellezza Più elevati buoni auspici E verità Non dimenticate Non dimenticate Non dimenticate I miei cari amici Il tempo del materialismo Sta finendo Stanno ancora controllando il mondo Controllano ancora l'educazione Ma tutti si stanno stancando di questo Sono stanchi di questo E cercano qualcosa di reale Il materialismo è sicuramente sconfitto Già adesso dal Vaishnavas Molto estesamente e profondamente sconfitto Ma loro non vogliono ascoltare Chiudono le orecchie Non danno tempo ai devoti Di spiegare la vera comprensione della vita Ma arriverà il nostro tempo Ce la faremo in un modo o nell'altro Chiederemo loro Do you want to be happy? Volete essere felici? Do you want to eat some delicious food? Volete mangiare un cibo delizioso? Vorreste danzare? Volete incontrare delle persone meravigliose con cui fare amicizia per il resto della vita? E loro diranno questo suona molto buono Allora portateli qui E Priyavrata spiegherà ogni cosa Come possono veramente trovare la felicità E senza ingannarsi Questo è ciò che noi chiamiamo vita semplice e pensiero elevato Shri La Prabhupada ci ha dato tutte le formule per il successo Per me non c'è un posto buono o un posto cattivo per predicare Solo che alcune persone sono più compassionevoli di altre Per predicare bisogna avere molta compassione Bisogna dividere tutte le cose buone che si hanno Allora la tua vita diventa interessante Ma questo è sufficiente e non devo dire altro In molti posti i devoti vogliono acquisire della terra E se acquisiscono della terra Vogliono decorarla in modo bello E poi vogliono portare tutti lì per predicargli Così le prime due cose voi le avete già fatto Ora avete solo bisogno della terza Sono sicuro che state già facendo Ecco perché abbiamo questo bellissimo festival di Gornitai Ecco perché abbiamo questo bellissimo festival di Gornitai Sognerebbe fare questo almeno una volta al mese Così la gente può apprendere di Vrindavana e di Sundaravana Così la gente può apprendere di Vrindavana e di Sundaravana Credo che sia abbastanza per oggi Credo che sia abbastanza per oggi As you like Allora provi Allora provi Bye